Musica 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 Senta! Qualsiasi cosa desiderate dell'Egitto la potete trovare al banco di sui. Sembra che alla mummia gli vadano bene le cose. Cosa desidera? Sono Ron Ashman, del The Quill. E vorrei vedere la mummia. Entri, la mummia è nel suo ufficio. Buongiorno, in che posso servirla? Buongiorno, sono Ron Ashman, giornalista del The Quill. E le sarei grato se mi concedesse qualche minuto del suo tempo. L'ascolto, signor Ashman. Potrebbe mostrarmi il suo trofeo? Certamente, è proprio qui. Mio nonno Amenofis mi dette un consiglio. Nascondi i tuoi tesori lontano dalla gente. Metti tutto in una camera ed abracadabra, che solo il suo bastone faccia che s'apra. È veramente impressionante. Ho combattuto tanto per avere quel ruolo in La Maledizione del Nilo. Lo sa lei che il produttore voleva che il mio ruolo lo interpretasse quella scopa inespressiva di Frankenstein? Parecchia gente, pensa che lei e Frankenstein vi somigliate fisicamente. Parecchia gente. Parecchia gente. Cosa ne sa la gente? La gente non sa distinguere il dottor Jacky e le mister Hyde, nemmeno se vedesse scritto sulla fronte il loro nome. Non le ruberò più tempo, la lascio. Oh, è stato un piacere. Casper, deve essere la famosa principessa a mesi sui. La fama di essere insopportabile. E che razza di gattino ha come mascotte. Prendi, gattino. Buon appetito. Buongiorno, sono Ron Ashman, il The Quill. La stampa! E allora? Ehm, niente. Semplicemente vorrei parlare un momento con lei. A due minuti. Lei deve essere la moglie della moglie, è vero? Io sono la principessa Mesis Uni, figlia di Amenophesis IV. Non sarà pericoloso, questo animale? La mia buona Kami è del tutto sottomessa alla mia volontà. Fa tutto ciò che voglio con il solo gesto della mia mano. Ma sto ancora cercando di placare la sua ansia di mangiare. Quando vede qualcosa di appetitoso, non può controllarsi. Non la disturbo oltre. Spero di sì. La mia buona Kami è del tutto sottomessa. Fa troppo gola per lasciarmi. Fa troppo gola per lasciarmi. Diamine! Questa è la famosa miniera! Allora, vediamo come si può arrivare fino all'uomo lupo. Diavolo, Ron! Avresti dovuto immetterti nel dannato tunnel, camminando per niente per delle ore in quel labirinto di gallerie. Va bene, sembra che non ci sia altro rimedio che giocarsi la pelle di nuovo. Uffa! Che razza di viaggio! Pensavo di non riuscire a raccontarlo. Si poteva appena vedere attraverso la fessura dell'uscita. Ma credo di aver attraversato centinaia di tunnel. Mi può tornare utile. Sento puzza di gas. Un po' di gas può sempre servire. Di nuovo al punto di partenza. Caspita! Questo è fantastico! Una laguna sotterranea con una cascata. Spero che non si versi. È molto fredda. Via di qua, stupido! Non vedi che stiamo girando? Va bene, va bene. Me ne vado. Caspita, che fumo! Ancora qui? Di parte di... Via di qua, stupido! Non hai capito? Fuori! E non torni! Che diavolo crede di essere quel tipo? Lo prendo. Mi può essere utile. I malvagi gemelli cotto. Mi può tornare utile. Mi può tornare utile. Dinamiche! Ce ne ho sufficienza per far saltare tutta la miniera. E non morirà? Non ma... E non! E non dipoli. E non sono un bel... E non? E non? E non si... E non è una cosa che... E non si... E non? E non è una cosa che... Maledizione, il sistema dei freni è rotto in quella galleria Ed è proprio quella in cui c'è il trofeo Guarda, guarda! Cosa abbiamo qui? Due fanciulle in pieno concerto Ciao! Sono Ron, tu chi sei? Ciao, mi chiamo Vanessa Come siete arrivate fin qui? Siamo delle esperte Girl Scout Non è stato difficile per queste montagne, anche se mi sono graffiata le ginocchia più di una volta È stata sul punto di precipitare un paio di volte Cosa fate qui voi due? Stiamo aspettando che si faccia vivo l'uomo lupo So che può suonare strano, ma sappiamo che vive qui vicino e che di notte gironzola nei paraggi in cerca di compagnia Compagnia! Compagnia femminile! Cos'ha di speciale? Cos'ha di speciale l'uomo lupo? Che cosa? Cos'ha di speciale? Sei pazzo! È tutto ciò che una ragazza può desiderare È carino, forte, simpatico, sexy È geniale! È il migliore! Lo è davvero! Ed è inoltre molto grazioso e mi affascina Bene, lasciamo stare questo argomento Non mi stanco mai di parlare di lui È il migliore! Capisci? Sanno le vostre famiglie che siete qui? I miei genitori credono che io sia a casa di Gladys E i suoi pensano che lei stia da me Ingegnoso, vero? Certo! Non dovreste stare a casa? Ci sono dei momenti nella vita che una deve fare ciò che gli comanda il cuore Ed io non potevo continuare a dormire con la foto del mio idolo sotto il cuscino Io ce l'ho sotto il cuscino, nell'album, nel casellario, dappertutto! Vi lascio suonare Buona fortuna e arrivederci Arrivederci, Ron! Sì, arrivederci! Ciao, Gladys! Ciao! Cosa fate qui, voi due? Eccoci qua Pigramente seduti Aspettando che appaia l'uomo lupo Sono davvero nervosa È la cosa di eccitante che mi sia successa in tutta la mia vita Non fare troppo caso a Gladys È isterica Cos'ha di speciale l'uomo lupo? Lui è tutto per me Quando lo vedo sullo schermo Mi tremano le gambe Ho sempre il collo pulito affinché mi possa mordere un giorno È quel culetto che ci fa impazzire Credo che dovresti tornare a casa, Gladys Mai! Senza l'uomo lupo! Vivo per lui Ogni ululato, ogni zampata Adoro le sepulci E inoltre se mi lasci sola ti ammazzo, Gladys Bene, non parliamo più dell'uomo lupo Come vuoi, Ron Anche se continuerai tutta la vita a parlare di lui Lascialo perdere, Gladys Non può capirci Vi lascio suonare Buona fortuna e arrivederci Grazie e arrivederci Ciao Ciao! 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 Caspita, una scala. Dove porterà? È una porta chiusa a metà della scala che mi impedisce di proseguire. Impossibile, è chiusa a chiave. Impossibile, è chiusa a metà della scala. Impossibile, è chiusa a metà della scala. Diavolo, questa faccia non mi è nuova. Quello lì sembra un calzino vecchio. Posso trovargli qualche utilità. C'è dentro una piccola chiave. Mi può tornare utile. C'è dentro una piccola chiave. Mi può tornare utile. Posso trovargli qualche utilità. Iscriviti al nostro canale. Cielo, un ascensore. Senza dubbio condurrà la tana dell'uomo lupo. Credo dovresti usare quei tasti. Credo dovresti usare quei tasti. Credo dovresti usare quei tasti. Guarda questo! Non c'è dubbio che l'uomo lupo sa trattarsi bene. È meglio lasciarlo lì. Posso averne bisogno per preparare dei drink. Posso trovargli qualche utilità. Non vedo perché dovrei farlo. Dopo aver guardato il cuore di Dio. Ho imposto che ti hanno bisogno per preparare dei drink. Per preparare dei drink. Inizia credo che li conosco! Piacere, sono Ron Ashman, del The Quill. Per bacco, vedo che è impossibile scappare da voi altri giornalisti anche per un solo giorno. Ma alla fine non mi sono mai negato alle interviste, amico. Spara! Potrei dare un'occhiata al suo trofeo? Oh, sarei felice di mostrarglielo se ce l'avessi, ma ancora non me l'hanno portato. Penso che sa... Lei è stata la stella della cerimonia dei premi. Successivamente ha notato qualcosa di strano alla festa. Qualcosa di strano? In effetti sì. La mummia sembrava avvolta in qualcosa di sporco. D'altra parte non mi sorprende. Le hanno dato il premio al miglior ruolo drammatico e sa perfettamente che quel premio doveva essere per me. Ma lei ha già ricevuto il premio come miglior attore? Per i miei meriti. Sono l'attore più redditizio per gli studi. Ogni film che interpreto è un successo di botteghino. Ad ogni modo ero io che meritavo di più il premio alla migliore interpretazione drammatica. Quell'armadio polveroso della mummia non avrebbe mai potuto ripetere la mia interpretazione di artiglio letale. Noto che non ha molta simpatia per la mummia. È un vecchio amareggiato. Non mi piacciono gli intrighi, ma sembra che sia invischiato in qualcosa di losco. Non so che diavolo possa essere, però mi piace mantenermi pulito. Parlò con Frankenstein alla festa? No, non ne ho avuta l'occasione. Ma è vero che mi sarebbe piaciuto. Un tipo molto interessante. Beh, cambiamo argomento. Come vuoi. Ho visto che ha un proiettore al piano di sopra. Te lo uso per vedere vecchi film e per preparare i personaggi. Adesso mi sto documentando per il mio prossimo ruolo. L'uomo lupo contro i malefici gemelli Cocteau. È il seguito del famoso i malefici gemelli Cocteau, che però non sono riuscito a trovare per poterlo vedere. Ha rilasciato un'intervista ad una mia compagna del giornale. Sì, una bellezza che si chiamava Su mi ha fatto delle domande. Ma poi non l'ho più vista. Come vanno i rapporti con i suoi compagni? In verità non ho molti rapporti con loro. Si potrebbe dire che ho incontrato di tutto. Ci sono mostri eccellenti ed altri che non sono raccomandabili. La lascio con le sue amiche. Molto bene. Arrivederci. Sembra che è già qui, l'uomo lupo. Grazie, amico. Voglio guardarla subito. Per favore, non mi disturbare durante la proiezione. Questo è ciò che chiamo un cinema in casa. Posso trovargli qualche utilità. Sembra sia un trattamento per i capelli. Ed anche le altre boccette. Conosco qualcuno che sta perdendo i capelli a ciuffi. Dato che non sembra importargli molto, prenderò proprio questa. Lo prendo. Può essere utile. No, penso che una sia sufficiente. Credo dovresti usare quei tasti. Grazie a tutti. 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 Sono niente meno che delle mutande dell'uomo lupo. Usate o non usate? Eh... usate. Chiedici ciò che vuoi. Chiedici ciò che vuoi. Prenderò il mazzo di carte. Tenete. Ci faremo un altare quando torneremo a casa. Venereremo queste mutande come se fossero il nostro dio. Grazie a tutti. è già aperta. Forse potrò averne bisogno più tardi. provare e tagliare i propri diamanti. utopia o realtà. Utopia o realtà di Rubi Topas. niente affatto. Niente affatto. È troppo sudicio. provare e tagliare. Provare e tagliare i propri diamanti. dopo tutti questi anni di ricerca alla fine ho decifrato il mistero del labirinto di Horus che mi condurrà fino all'altare sacro di Karnak. La chiave sta in questo vecchio papiro che ti spedisco. mi succede qualcosa ti permetterà di arrivare fino al mio. Spero di scoprire il mistero della maledizione dell'altare che pesa su tutti coloro che osano profanarlo. Fai attenzione. Firmato Günther Ecker Poscriptum Se vedi nostro fratello Marcus abbraccialo per me. Si ha disegnato una specie di scarabeo. Così Poscriptum